I lucchetti sono un tentativo che siamo pronti a togliere di evitare entrate e uscite che violano le normative della struttura e i regolamenti interni, soprattutto durante la notte perché vengono aperte per far entrare eventuali ritardatari dopo l'appello strale che noi facciamo e durante la somministrazione del pasto. Secondo il presidente della cooperativa che gestisce i migranti in queste due strutture di malcontenta, i lucchetti sono stati messi su decisione dei proprietari perché gli ospiti non avrebbero rispettato le regole. Lucchetti che ribadisce vengono utilizzati solo in determinati orari. Vengono tolti durante la giornata, non ci sono. Siccome è successo che durante la somministrazione dei pasti molti ospiti agevano all'entrata ad altri durante la flusso mensa, e a parole non riusciamo a arrivare a nulla, abbiamo tentato questa forzatura. Non è simpatica, lo ammetto, però vediamo se rispettano le minimi regole di comportamento civile che abbiamo attuato assieme. Quindi siete arrivati a questa decisione dopo che si sono verificati determinati episodi? Entrate e uscite fuori orario, oltre all'appello. A telecamere spente però alcuni migranti sostengono che i lucchetti vengano tenuti molto più a lungo. Il presidente però prende un impegno. Cercheremo di capire il motivo, li toglieremo. Non è certo nostra intenzione il lucchettare tutte le finestre dell'albergo. E per quanto riguarda il cibo, chi nel lato risponde così? Il cibo è vario, è stato cambiato di recente anche dalla società di catering, d'accordo con i proprietari delle strutture alberghiere, andando incontro alle loro esigenze. Infatti il cibo è stato approvato da loro prima di darlo in distribuzione. Sta il fatto, approvato, che anche i nostri collaboratori mangiano assieme a loro. Dunque il cibo è di, non dico di ottimo, ma di buonissima qualità.